Ciao a tutti, oggi prepareremo il budino vegano al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti. Gli ingredienti sono latte di soia, zucchero, fegola di patate o maizena o farina di riso e caffè espresso amaro. Andiamo in via la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale tutti gli ingredienti, quindi il latte di soia, il caffè espresso amaro, lo zucchero e la maizena. Azioniamo il bimbi per 9 minuti 90 gradi velocità 4 Il budino al caffè è pronto. Trasferiamolo in degli stampi monoporzione e lasciamolo raffreddare in frigo per almeno 4 ore. Budino vegano al caffè. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.